Ben tornati a zona Cisle, oggi siamo qui con Giorgio Galbusera, benvenuto, Giorgio Galbusera è segretario generale dell'FNP Cisle Monza-Brianza-Lecco. Nei giorni scorsi è stato eletto segretario generale del sindacato Cislino dei pensionati. Ci racconti un po' la sua storia sindacale. Io ho 68 anni, sono entrato giovanissimo a lavorare in una grande azienda del territorio, alla Vismara, avevo poco meno di 16 anni, andavo a scuola alla sera, ho lavorato in quell'azienda per 15 anni, in quell'azienda io mi sono formato sindacalmente, una grande azienda a presenza Cisle, ho avuto dei maestri che mi hanno insegnato il mestiere. Nel 79 sono uscito a tempo pieno a Lecco e sono diventato segretario generale degli alimentaristi a Lecco, sono stato a Lecco fino all'88 e sono passato alla stessa categoria regionale dove ho fatto l'organizzativo, ho fatto la trafila e ho fatto il segretario generale e ho collaborato oltre che per le responsabilità della Lombardia anche con la struttura nazionale di categoria perché ho avuto l'incarico di coordinare alcuni grandi gruppi, cosa che ho fatto fino alla fine dello scorso anno e negli ultimi anni quando ero già in pensione recentemente mi sono occupato anche del CAF di Lecco e adesso sono qui a darmi da fare per i problemi degli anziani. Ecco appunto adesso che ha questo incarico per i pensionati di Monza e Lecco le chiediamo chi sono i pensionati iscritti all'FNP e quali le loro problematiche principali? Gli over 65 nel paese ma anche nella nostra zona ormai stanno raggiungendo velocemente il 25% della popolazione. Ci sono alcune immagini che ricorrono sui pensionati, sugli anziani, l'anziano solo, l'anziano che sta al circolo o al bar, l'anziano che fa il nonno. Non rappresenta tutto, c'è un mondo intero degli anziani che ha in sé potenzialità e che non ha un posto nella società, aspetta anche noi come sindacato darci da fare in tal senso. I problemi del pensionato sono innanzitutto la previdenza, una giusta pensione, un adeguato servizio socio-sanitario, per questo facciamo anche vertenzialità con i comuni, con gli istituti preposti, quindi ci preoccupiamo della salute, ci preoccupiamo dei loro problemi, welfare e quant'altro, ce n'è da fare. Ci interrompiamo un attimo perché diamo parola alla segretaria generale di CISL Monza-Brianza Lecco, Rita Pavan, per il suo intervento. Il 20 ottobre nell'ambito del ciclo di incontri i venerdì della CISL presso la sede della Camera di Commercio di Lecco un incontro per ragionare attorno ad uno dei temi centrali, il welfare, il welfare oggi. Rita Pavan, segretario generale della CISL Monza-Brianza-Lecco. Anzitutto questo tema, questo grande tema che chiama ovviamente alla responsabilità tutti i soggetti, in primisi i sindacati. Sì certo, anche perché in una situazione in cui si restringono le risorse che dallo Stato vengono passate agli enti locali e comuni e però aumentano anche i bisogni e si diversificano. Pensiamo per esempio a tutto il tema degli anziani, ma anche ai temi per esempio della conciliazione lavoro-famiglia e anche ad esempio alle persone che rimangono disoccupate. Quindi tutti questi temi vanno affrontati in un'ottica nuova cercando di dare risposta alle persone per non lasciarle sole e dare risposte soprattutto concrete. Abbiamo pensato di invitare dei docenti universitari che ci affronteranno, ci aiuteranno ad affrontare alcuni temi, per vedere sia tutta la partita del welfare territoriale, sia la partita del welfare aziendale, cioè come nelle imprese è possibile attraverso la contrattazione avere delle risposte pagate dalle imprese per benefit di welfare verso i propri dipendenti. Cisla è molto impegnata anche su questo fronte e quali sono le esperienze che meritano una sottolineatura, perché sono davvero innumerevoli a livello territoriale. Sì, a questo seminario abbiamo chiamato anche il presidente di Network perché vogliamo che si parli di questo progetto che è stato presentato a Fondazione Cariplo per un welfare inclusivo a livello territoriale e a chilometro zero, cioè un welfare che possa da un lato vedere anche tutti i soggetti del terzo settore, i soggetti pubblici del territorio, parte attiva, ma anche ad esempio inclusivo, quindi fare in modo che da questo tema del welfare possano uscire delle iniziative nei confronti delle persone in condizioni di fragilità. Peraltro nel nostro territorio abbiamo siglato recentemente un protocollo tra tutte le forze sindacali, imprenditoriali, eccetera, e secondo noi questo progetto va un po' in questa direzione. Abbiamo anche tanti altri strumenti che sono la negoziazione territoriale, quindi ci confrontiamo come sindacato con i comuni per vedere concretamente che cosa va fatto vicino alla popolazione, nei singoli comuni e poi appunto questo tema del welfare aziendale. Un incontro aperto a tutti? Sì, noi teniamo sempre i nostri venerdì aperti anche alla popolazione del territorio. Appuntamento dalle ore? Dalle 9 alle 13 presso la Camera di Commercio a Lecco. In concreto quali servizi offrite? Intanto siamo organizzati in una ventina di zone di recapiti dove facciamo accoglienza, abbiamo una serie di collaboratori specializzati sui vari temi e abbiamo un po' di agenti sociali. Noi offriamo servizi sulla previdenza, quelli generali e anche quelli locali. Facciamo vertenzialità per i problemi sociosanitari. In questo campo le cose nuove che stanno arrivando non sono di poco conto. Abbiamo un servizio che chiamiamo di segretariato sociale, diciamo così i più bisognosi che hanno bisogno di percorsi specifici dove li accogliamo e li indirizziamo all'interno di un percorso rispetto ai loro bisogni. Abbiamo anche un servizio di trasporto per chi ha di questi problemi, perché non ha il mezzo, perché vive da solo, perché deve andare al medico, perché deve fare una visita specialistica. Questi sostanzialmente sono i nostri servizi. Avvertiamo l'esigenza di essere anche più aperti sull'accoglienza, ma abbiamo sempre tanta coda e tante cose da soddisfare, ma cercheremo di migliorare anche in questo. Ecco, quindi appunto una platea ampia con tante problematiche, tante questioni. Nel suo primo anno di mandato quali priorità vorrà affrontare? Allora, io quando sono stato eletto con una parola d'ordine, perché non si può dimenticare niente, la ripeto anche qui per gli ascoltatori, in particolare per gli anziani, bisogna fare tutto, ma bisogna fare l'ordinario in modo straordinario, bisogna farlo bene. In particolare, vista la domanda, bisogna soprattutto privilegiare i problemi socio-sanitari e migliorare la comunicazione, questo è un mezzo. È difficile parlare con tutti, che siano iscritti o meno, noi abbiamo bisogno di strumenti agili, molto concreti e capibili che possono arrivare a tutti. Ci impegneremo nel primo anno oltre al resto, soprattutto su questo. Ringraziamo Giorgio Galbusera per essere stato qui con noi, ringraziamo voi per averci seguito e vi aspettiamo su Zona CISL. Grazie e buona vita agli anziani! Grazie a tutti!